Concerto nel Teatro Giuseppe Verdi di Brindisi, ci sono ritornato dopo 12 anni di assenza e devo dire che è stata una bellissima serata, piena di significati. Io mi sono divertito, impegnato, mi auguro che anche voi siate della stessa idea perché penso che la musica sia un bel anello di congiunzione tra la gente. Concerto nel Teatro Giuseppe Verdi di Brindisi Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.